Ok, non voglio dirti che hai fatto un piatto schifoso, però sinceramente confrontando con quello di Russo, insomma, se lo meritavo un po' Viri. Cioè non pensavo che doveva essere Andrea ad uscire, sinceramente, non c'è niente di male, però pensavo che era Elisa ad uscire, perché alla fine ha fatto un piatto che era incompleto. Fare tre cubi di carne così insensate, sono... Non so. Sei secondo me lo meritava, perché se lo chef ha trovato l'umami era quello che voleva. Beh, siete contenti che sono ancora qui, spero.